L'accesso alla Fiera di San Nicola sarà consentito solo ai possessori del Green Pass. L'annuncio di questa mattina del sindaco Matteo Ricci e dell'assessore alle attività economiche Francesca Frenquellucci ha già sollevato un polverone sui social. Il primo cittadino, come nel suo stile, si è portato avanti, battendo gli altri sul tempo e dichiarando di aver voluto semplicemente anticipare la linea nazionale per tornare ad organizzare eventi in sicurezza. Si parte, ha detto Ricci, da una manifestazione storica della città che nel 2020 avevamo deciso di non organizzare. Quest'anno si svolgerà, come da tradizione, nella zona mare di Pesaro dal 10 al 12 settembre. Nei prossimi giorni, assieme a Forze dell'Ordine, Associazioni di Categorie e Organizzatori, ci incontreremo per mettere a punto il piano di sicurezza. La certificazione verde Covid-19 dovrà essere presentata da tutti coloro che vorranno accedere all'area, ambulanti compresi. Il tempo di annunciarlo è già su Facebook. Il sindaco ha subito iniziato a collezionare le prime critiche da parte della cittadinanza, non tutta ovviamente. Intanto l'assessore Francesca Frenquellucci, ai microfoni di Fano TV, spiega perché il Comune ha deciso di adottare questa linea. Come decisione non siamo i primi a prenderla, perché comunque, come vediamo anche dai Tg, anche in altre parti del mondo, stanno prendendo e vanno in questa direzione. Bisogna capire dove vogliamo andare, perché se vogliamo dare continuità lavorativa e tutela della salute, dobbiamo cercare una soluzione per forza, altrimenti possiamo rischiare di ritrovarci come lo scorso anno e quindi richiudere e vedere di nuovo manifestazioni in piazza, gente che chiama, che chiede di poter lavorare, ma se abbiamo gli ospedali pieni, poi è chiaro che vengono richiuse le attività e ci ritroviamo di nuovo in un altro lockdown. Tutto questo non lo possiamo permettere, quindi una soluzione va presa. Capisco che come inizio può sembrare tutto esagerato, però aspettiamo di vedere anche la parte tecnica delle decisioni che verranno prese poi anche riguardo al Green Pass. Vi siete chiesti se dal punto di vista costituzionale è legittimo? Beh, allora, adesso aspettiamo anche che cosa esce a livello nazionale, quali saranno le soluzioni che ci verranno date, ma comunque da quello che vedo la direzione è questa, e altre soluzioni non le vedo, altrimenti se poi la curva si rialza ci saranno di nuovo chiusure e con tutte le conseguenze che abbiamo già vissuto.